Non sembra essere grave l'incidente accaduto a un ciclista in Viale Stazione a Borgo San Giovanni poco prima delle 11 di questa mattina. Da quanto ci hanno riferito, l'uomo che sembra stesse percorrendo la pista ciclabile delimitata dal cordolo dovrebbe essere caduto in modo autonomo, trovandosi però ad avere necessità dell'intervento del soccorso da parte dell'ambulanza del suo M118. Il caso vuole che in quel frangente si sia trovata a passare anche l'autobotte dei vigili del fuoco la quale stava rientrando in caserma e che si è fermata per prestare aiuto. Dopo qualche minuto anche la macchina della polizia locale che probabilmente stava facendo il suo giro di ronda si è fermata per verificare cosa fosse successo vista la presenza di ambulanza e vigili del fuoco. Il malcapitato è stato portato a sirene spiegate al pronto soccorso. La bicicletta raccolta dai vigili del fuoco è stata presa in carico poi dalla polizia locale. Ora si devono capire le motivazioni della caduta, se a causa di disattenzione o della presenza di intralci sul silciato. Qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.